Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 24esimo episodio di Minecraft 25esimo Non mi ricordo signori ma siamo in un nuovo episodio Detto questo signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto Vi ringrazio per tutto quanto quello che è fatto al canale, per l'iscrizione, per il supporto E vi ringrazio in anticipo, abbiamo raggiunto, ripeto, i 2000 iscritti, la mani da un bel po' che lo ripeto E vi ringrazio sempre per tutto il supporto E vi richiedo ancora di più, più supporto per continuare a raggiungere sempre obiettivi sempre più alti Io qua avevo seminato il grano in una maniera brutta come se non ci fossero domani Però questa volta ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo seminato giusto Buttiamo sti granelli che mi danno semplicemente fastidio Bene, andiamo a far ripopolare le nostre mucche che da un bel po' che non ci vedono Mucchine, mangiate, riproducetevi Dai che ho bisogno delle vostre pelli Dai così, dai così, che poi faremo anche un bellissimo, tanti belli incantamenti Grazie al vostro aiuto Signori, allora io off camera mi sono portato un pochino avanti Ovvero, cosa ho fatto? Assolutamente niente Ho messo tutte le scale sul pilone centrale Che poi dovremo andare a migliorare Ho finito la parte alta, diciamo Sono arrivato ai 22 blocchi che ci servivano E ho fatto la croce centrale È bruttissimo, signori, lo so perfettamente È fuori asse, questa cosa mi danno fastidio di più Dovremmo cercare una soluzione ma attualmente non ce l'ho Attualmente non ho una soluzione Ma la troveremo in maniera successiva Tutto questo, signori, mi sono giocato un bel po' off camera E mi sono portato a casa un bel po' di materiali, signori Mi sono portato a casa un bel po' di pietra Per poter completare questa cazzarola di struttura Sperando che un giorno funzioni Sperando che un giorno funzioni Abbiamo anche altro materiale che ho lasciato nelle casse giù Però adesso voi mi direte Bella testa di ciuccio Come fai ora a salire sopra? Beh, avete perfettamente ragione Io mi sono lanciato come un cretino E non so più E non ho la minima idea di come risalire là sopra Bene, va bene Superfluo, ci inventeremo un'altra scusa Le scale le ho posate Io no, ne ho 28 Va bene, signori, siamo fortunati Abbiamo le scale che ci aiuteranno a salire Dovremmo trovare un modo per salire più velocemente? Un giorno, un giorno faremo un ascensore veloce Per fare una salita, una discesa più veloce Per adesso ci sono queste scale Che sono una rottura di scatola terribile Mi dà proprio fastidio il fatto che sia fuori asse Mi dà un fastidio che voi neanche Neanche la metà potete immaginare di quanto mi dà fastidio Allora, mi dai un attimino queste scale Iniziamo a mettere le scale di qua, signori E cerchiamo di salire Perché dobbiamo tornare su Dobbiamo tornare su E completare la struttura che a noi interessa Ok, siamo qui sopra, signora Oh, signori, signori Quindi Cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo levare questa scaletta Che non serve più qui Grazie mille Ma porca Ok Ok A questo punto dobbiamo fare tutto quanto il bordo Il bordo che inizierebbe con un bordo così Laterale, signori Vabbè, il mob spawner lo conoscono tutti Anche i più moderni giocatori di minecraft Sanno come funziona un mob spawner E cosa va costruito Perché esso funzioni Quindi portiamoci avanti con tutta questa costruzione Quando domani dovranno cadere i mob Che cadranno nella nostra zona centrale Moriranno e ci porteranno i drop Che a noi tanto servono Più che i drop, signori, ci serve l'esperienza Decisamente sì Ci serve l'esperienza per essere sempre pronti e carichi Per nuove Per nuove incantesimi E' anche vero che domani faremo anche la La farm di Enderman E la farm di Enderman che sarà Spettacolare Io dove cazzo ero la sono? Non si sa Ok La farm di Enderman Ma questi sono 8 blocchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sì, sono 8 blocchi Sono 8 blocchi Perché non mi fido di Di quello che conteggio io prima Non mi fido di quello che conteggio io prima Però va bene Però va bene Mi dà fastidio il fatto che non siamo perfettamente centrati Ma giustamente qui va fatto di 2 E noi non possiamo farlo altrimenti Stava a cascar male Ok, va bene Dettagli Dettagli No, non devi andare avanti Devi andare indietro Ok Chiudiamo questa zona di qua Abbiamo finito il primo blocco di pietra Speriamo che tutti questi blocchi di pietra che c'ho Mi bastino Perché sennò c'è da uscire Pazzi Decidamente sì Nel video di oggi dobbiamo riuscire a completare questo mob spawner Completarlo è una parola Vedere se funziona è un'altra Signore Perché vedere se il mob spawner funziona È tutt'altra che Situazione facile Ora, fatto questo Io direi intanto di iniziare a Dobbiamo chiudere tutto quanto Tutto quanto a giro Dobbiamo creare la base La base per Sì, sì, sì Perché qui devono andare a spawnare i nostri bellissimi amichetti Allora, allora, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 E 8 E 8 Così dovremmo un attimino essere in linea con quello Penso di no Penso che ci manchi una linea Ma non, non, non Dettagli, signori Facciamo così Faccio un rapido taglio E con calma Vedo di completare Addirittura ce ne mancano due Porca miseria Proprio misure Proprio quando dici le misure sbagliate Va bene, signori Ci vediamo quando finisco di fare queste piattaforme Che sono una grandissima rottura di scatole Terribile Il bello è se il mob spawner poi non funziona Come mi è capitato più di una volta Che poi il mob spawner non funziona E noi ci ritroviamo con questa struttura brutta Al centro del nostro mondo Che non abbiamo che cosa farcene Però, 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 però Qualcosa ci inventeremo Dobbiamo sperare che Innanzitutto che funzioni Prima cosa fondamentale Perché se non funziona Dico È un problema enorme Stiamo partendo due video della nostra vita A fare una struttura Che poi non funziona Non ci ho voglia Minimamente di pensare a una cosa di questo genere Ok, signori Altro step fatto Abbiamo creato tutta quanta la base Adesso speriamo che con i blocchi Che c'ho ancora di pietra Riusciamo a fare La zona perimetrale Ovvero Dobbiamo alzare tutto di due Speriamo di riuscirci con i blocchi Che abbiamo E poi andare a fare il tetto Ci riusciremo? Non lo so, signori Noi siamo qui pronti Per scoprire le varie situazioni Che si creano Signori Tutto questo sta calando la notte Ma a noi frega poco Perché siamo qua sopra Quindi Non possiamo Minimamente scendere giù Per andare a dormire Sarebbe una pazzia più totale Anche se Comunque dovremmo scendere Perché dobbiamo andare a recuperare L'acqua E tutte le altre varie situazioni Però 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 Un dettaglio alla volta Un dettaglio alla volta Signori Continuano le costruzioni La Maullo Construction Procede nei suoi Nei suoi progetti Nei suoi progetti Che non si sa Se verranno portati A buon termine Però Però Noi procediamo Noi procediamo Ok signori Io ho dormito E Sono Dovuto andare a recuperare Altro materiale Perché avevamo finito la pietra Non chiedetemi Perché ci sia Un mercante Con i lama Dove c'è La nostra zona Dell'incudine Però Non facciamoci troppe domande E va bene così Ho recuperato anche Due secchielli d'acqua Ho recuperato Ho recuperato il cavolo Perché dobbiamo Un attimino Intanto saliamo su Signori Facciamo il primo step Di salire su Che già è una cosa importante Perché dobbiamo mettere Gli hopper Con le ceste Ovviamente per raccogliere Tutto quanto Il materiale Che ci verrà Che verrà fornito Dai nostri bellissimi mob Che moriranno Nella nostra piattaforma Della morte E Sì Sì Questo video In tutto questo Forse starà Durando un po' più Di tempo Ma Signori Il tempo ci vuole Per la costruzione Non possiamo fare Troppi video Ripetitivi Quindi Già due video Per la costruzione finale Di questo mob spawner Bastano E avanzano La nostra struttura È molto Mimitizzosa Mimitizzosa Sì 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 Perché Si camuffano bene Le due zone Allora Secondo un'antica leggenda Noi dobbiamo andare A rompere Uno Due Tre Quattro Cinque E sei Mettere intanto Due casse Qui Che non erano quelle Che io avevo Organizzato Dobbiamo andare a creare Gli hopper Quindi mettiamo una cosa di qui Creiamo altre due casse Una E due Che me ne sono fumate Era ora Ok Mettiamo queste di qua E queste di qua E uno Due 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 Due Poi dici Come se ne va il ferro Così Facendo queste mega Mega cose Che non servono nulla Allora Un hopper di qua Un hopper di qua Riesco secondo voi No Mannaggia 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 a te A chi non te lo dice pure Ok Questo forse ci siamo riusciti Recuperiamo questo Tu Questo Me l'hai Collegato Sì Ok Dove è finito l'hopper L'ho recuperato io No Sarà finito dentro la cesta Ovviamente Come è normale che sia Salta 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 Ok Quindi in teoria Se io tiro una patata In quell'hopper di là Mi finisce qua dentro Perfetto signori Il problema degli hopper L'abbiamo risolto Ok Il problema degli hopper L'abbiamo risolto Ora 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 Noi dobbiamo mettere Degli slab Che io direi che possiamo Intanto Un giorno Un giorno Modificheremo tutto Signori Un giorno lo renderemo Più carino e coccoloso Un giorno lo renderemo Più carino e coccoloso Sicuro Questo è un blocco da due Quindi in teoria Loro da qua Possono scendere Ma se ci metto uno slab così Loro mi vedono male Secondo voi Secondo me Mi vedono Quindi si Più che lo slab Intanto per sicurezza Mettiamoci un blocco sano Poi domani Se la cosa potrà essere Più divertente Lo vedremo Di modificarlo In seguito Torniamo su Torniamo su E porca di una paletta Ambriaca Vediamo di completare Questa cazzarola di struttura Allora Qua ci saranno 70.000 metri Sopra il cielo Stavamo cadendo malissimo Però va bene Allora Ok 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 Allora qui Una piccola struttura L'abbiamo fatta Io direi intanto Di posizionare l'acqua Che non è proprio Una brutta idea Io dovrei avere I due secchielli Bravo Così Mettiamo i due secchielli Posizioniamo l'acqua E poi signori Tranquilli che Off camera Mi finisco Tutto quanto Il tetto Così non vi stresso Con il tetto Che già Mi sta a stressa A me E pensa a voi Mamma mia MobSponder Se funziona Una cosa carina Se funziona Il problema È sempre quello Mettiamo Qualcosa mi dice Che ho sbagliato Signori Qualcosa mi dice Sento di aver sbagliato Sento di aver sbagliato Perché le trapdoor Dove cazzo Ora le metto Ho sbagliato Dovevo salire di due Questo signori Dovevo salire Va bene Detto questo Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Signori Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi studenti E per il supporto Noi ci vediamo Sempre qui domani Con la struttura Tutta modificata No domani no Ci vedremo Prossimamente Nel prossimo video Di minecraft Con la struttura Tutta modificata E tutto quanto Sistemato Signori Bella raga Ciao Ciao